Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Cosmos e oggi siamo su Guns and Robots Un giochino free to play che trovate su Steam Che cos'è questo Guns and Robots? E' semplicemente un TPS Arena Un po' in stile World of Tanks, un po' un'innovazione per così dire Come vedete la grafica è molto fumettistica di questo Guns and Robots Ma non dispiace affatto perché oltre ad essere fumettistica è anche molto bella da vedere per così dire Ed è anche piuttosto gradevole ragazzi Ora, senza scendere nei dettagli di questo gioco perché voi lo sapete a me annoia parlare dei dettagli Possiamo fare questo, possiamo fare quello Vi faccio un riassunto breve breve Allora, noi avremo, quando inizieremo a giocare Avremo un robot standard tipo questo Ma con due armi totalmente diverse Poi quelle le potrete cambiare anche voi E avremo due slot a disposizione per crearci due robot totalmente diversi O se vogliamo anche uguali, perché no? Ma io mi sono creato il mio robot Che è questo Totalmente personalizzato, scusate Compreso anche il colore La testa, le armi Insomma, tutto personalizzato Però io questo robot, il primo L'ho creato questa mattina E voglio testarlo con voi Adesso, in diretta Per così dire Che cos'altro dirvi ragazzi? Avremo la totale personalizzazione del nostro robot Dallo chassis al motore che utilizzeremo su questo chassis Al corpo, questo qua Comprese le batterie per far funzionare il robot Potremo personalizzare la nostra testa Per quale usare Eh, ce n'è di... Ragazzi, ce n'è un'infinità di teste Eh, le armi Ok, sono queste qui Ehm... Queste, no, scusate Queste sono quelle che ho montato io sul mio robot Qua c'è lo store Eccolo qua Scusate ma ancora ce l'ho a prendere la mano Queste sono tutte le armi Che potremo andare a provare E che potremo comprare tranquillamente Ragazzi Eh, un lato positivissimo di questo gioco È che non è affatto pay to win Certo Chi shoppa su questo gioco Può avere... Che so Potenziamenti più immediati Può avere più slot per più robot Un inventario più capiente Per così dire Però ragazzi Alla fin fine Il pay to win su questo gioco non esiste Cioè, se volete shoppare Prego, fate pure Nessuno ve lo impedisce Ma se non ci shoppate Credetemi Sarete Comunque All'altezza di chi ci shoppa Perché comunque Lo shopp su questo gioco Non dà così grossi Vantaggi In ambito di gameplay Ecco Più che altro Estetici Un'ultima cosa Prima di passare Direttamente al gameplay Leggevo Le recensioni Su Steam Di questo gioco Perché io Prima di scaricare un gioco Vado a leggere le recensioni E ho letto Di un ragazzo Che si lamentava Del matchmaking Diceva che Si doveva aspettare Mezz'ora Di matchmaking Per poi Pochi secondi Di gioco Ragazzi È Totalmente l'opposto Cioè Certo Può capitare alle volte Che ci sia un matchmaking Di un minuto Ragazzi Di un minuto Il massimo che ho avuto Di matchmaking È stato un minuto Il minimo Tempo In cui ho dovuto attendere È stato di un secondo Ragazzi Credetemi Ho fatto battle Qua Ho aspettato un secondo Ed è partita Ed è iniziata la partita Credetemi Una cosa così Non l'avevo mai vista Comunque Andiamo a fare subito battle Perché vi voglio fare vedere Un'altra cosa simpaticissima Di questo guns and robots Guardate qui Battle Ah scusate Devo ricaricare le mie armi Sì Giusto Facciamo Vediamo un po' Vediamo un po' Radius damage Questo qui Dai Facciamo questo Bui Sì Sempre questo qua Ok Perfetto Autore supply Ok Battle Dobbiamo anche ricaricare le munizioni Allora ragazzi Guardate questo È un minigioco Io ora non so se mi riuscite a sentire Perché È troppo alto l'audio Di questo minigioco Ma Ecco Matchmaking Durato 13 secondi Lo vedete in basso Peccato che è sparito Il matchmaking ragazzi È durato 13 secondi 13 secondi Non so se ci rendiamo conto Quindi Che non mi venissero a dire Matchmaking Mezz'ora E stronzate varie Comunque Abbiamo tante modalità di gioco In questo caso Dobbiamo catturare Le batterie avversarie Ovviamente I nostri avversari Faranno lo stesso Stranamente Ho beccato un robot Che è praticamente uguale al mio Ma Data la totale personalizzazione Del robot È molto È molto difficile Oltre che improbabile Beccare Un robot Uguale al nostro Però Come vedete è successo Mai dire mai Questa è la prima volta Che uso queste armi Quindi Aiuto Quindi mi perdonerete Se faccio cagare Ecco giura Le armi che sto usando Questo mio avversario Sono le mie armi preferite Quelle che ho Sull'altro robot Quello che avete visto poco fa E vabbè però Se ci togli davanti Magari riesco a colpirlo Amico mio Comunque è morto In basso Al centro Orcocane Vedete La vita Per così dire Del nostro robot Scusate ragazzi La batteria Che sarebbero Quelle barre blu Quelle due barre blu Laterali Sono la batteria Praticamente Del nostro robot Quando finisce la batteria Non potremo più sparare Intanto abbiamo vinto Anche senza Prendere Senza neanche rubare Una batteria Alla fine Della partita C'è il miglior giocatore Che può essere Sia della squadra vincente Che della squadra perdente A sinistra Abbiamo La nostra Classifica finale Con il rank Del nostro robot Il livello Del nostro robot Che io ancora Devo capire Perché prima L'arancione Ora è di nuovo verde La gilda Di cui faremo parte Se ne facciamo parte E le kill Fatte da noi In questo caso Zero Perché Non abbiamo fatto Neanche una Ragazzi Piccola nota Negativa Che in effetti Le partite Di questo Ragazzi scusate Forse Forse ho laggato E non mi avete sentito Vabbè Ve lo ripeto Non è un problema Piccola nota Negativa Dicevo Di questo Gunsand robots È che in effetti Le partite Durano Un po' troppo poco Cioè La partita È durata Questa che ho fatto Ora ora Bene o male Due minuti Ragion per cui Ne farò un'altra Con il mio robot Quello che preferisco E vediamo Come va Questa volta Nella speranza Di fare qualche kill Ecco Guardate Due secondi Di matchmaking L'avete visto In diretta L'avete visto In diretta Due secondi Di matchmaking Ragazzi È spettacolare Stupendo Scusate Un po' di tosse Dunque Questa volta Questa volta Siamo Un attimo Vediamo Ah Di nuovo Cattura Le batterie Tutti i robot A quattro armi Abbiamo Però come vedete È difficile Beccare Robot uguali Che ognuno Usa la sua Colorazione Cavolate varie Ragazzi C'è da dire Che vado lento Ma lento Come Come una Scoreggia d'inverno Lento proprio Comunque Che armi Sto usando Su questo robot Ragazzi Sono armi Relativamente Semplici Ma Insomma Fanno La loro Porca figura Se magari Questo dietro Me la smette Spararmi All'orecchio Praticamente Sono dei Lanciarazzi Per così dire Anche se in realtà Lanciano dei petardi Che Singolarmente Fanno pochissimi Danni Però Intanto qui Ho messo io Una torretta Però Siccome ho Quattro di queste Armi E ognuna di queste Armi lancia A sua volta Quattro Di questi Petardi Chiamiamoli così Insomma Ragazzi I danni Sono Abbastanza Alti Ecco Intanto Qui stiamo Per rubare La batteria avversaria Ok E Devo portarla Nella nostra Base Vorrei Trovare Qualche avversario Qua in giro Ma Sinceramente Non riesco a trovarne Neanche uno Ma più che altro Per farvi vedere Le armi che sto usando E anche consigliarvele Perché Ecco Un avversario Come vedete I danni sono Relativamente Bassi Ma comunque Continui Un attimo Perché ho finito La batteria E non ho neanche Il coso lì Per ricaricarlo Intanto Un altro Stronto Di re Mi spara E va bene Ragazzi Stavolta Sono morto E niente Sono morto Sono morto Sono morto Ragazzi Mi dispiace Sono morto Mannaggia La pupattola Sono morto Ci ha uccisi Tutti Quel Bloodstil Madonna Che nome di merda Sembra il nome Di uno scarafaggio Ok Alla fine Di ogni partita Riceveremo Dei soldi Questa moneta Di gioco Questi Globi Con il fulmine Dentro Rosa Sono praticamente Quella moneta Che si va a shoppare Per così dire Più alcuni potenziamenti Questo che potremmo Utilizzare in game Questo per Per fare l'upgrade Alle parti del nostro robot E insomma ragazzi Io purtroppo Ho dimenticato Che dovevo comprare Questo Praticamente Questo qui È un potenziamento Da usare in game Praticamente Le batterie Quando si consumano Con questo Potere Diciamo Chiamiamolo così Si ricaricano Immediatamente E restano Cariche Per un periodo Limitato Di circa 20 secondi Ma che comunque Ti può salvare la vita Come in questo caso Che sono morto Ora ora Se solo lo avessi avuto prima Ma vabbè ragazzi Sono cose che succedono Non è morto nessuno Ne compro sempre 5 io Perché tanto Scusate Che tanto Non costano niente Poi abbiamo questo qui Nitro Injection Che praticamente Ci fa andare Più veloci A noi E alla nostra squadra Per qualche secondo Compriamone 6 Di tutti 666 Ho fatto il numero del diavolo No dai dai Facciamo 666 Magari qualcuno di voi E purità Non si potrebbe sentire offeso Ragazzi Questo qui è Guns and Robots Nient'altro Ve l'ho detto Ci sono altre modalità di gioco Ma sono tutte Random Quindi Potreste beccare Per varie volte di fila La stessa modalità di gioco Come è successo a me Ora ora Come potreste beccare Team Deathmatch Un altro che Tipo cattura la bandiera Insomma ragazzi E' un gioco che sinceramente Vi consiglio Perché comunque E' free to play Non è Pay to win E' divertente E' leggerissimo Pesa meno di un giga Ragazzi Pesa all'incirca 900 MB Una volta scaricato Una volta scaricato Non dovrete Non dovrete neanche aggiornarlo Perché non ci sono aggiornamenti Quindi rendetevi conto Cioè Io l'ho scaricato in 13 minuti L'ho scaricato E ci ho giocato Fine Quindi rendetevi conto Divertite ragazzi Vi divertite E vi divertite Bene Per questo video Credo che sia tutto Come al solito Se il video vi è piaciuto Spollegiate in su Commentate E iscrivetevi E iscrivetevi Anche perché Anche perché Stanno per arrivare Giochi horror E Credo che mi prenderò Non pochi infarti Ragazzi Va bene Per questo video è tutto Noi ci vediamo Al prossimo gameplay Che credo sarà Di Outlast Aiuto Va bene ragazzi Un saluto a tutti voi Dal vostro Cosmos Bella